Alessandro Piazzi è il nuovo presidente di Estra. Il consiglio di amministrazione della multiutility energetica ha conferito a Piazzi, amministratore delegato della società, anche la presidenza del gruppo. Bollette gas più leggere per le società sportive toscane che gestiscono impianti pubblici, l'opportunità a cui è aderito il Comune di Firenze e offerta da Estra, che ha vinto il bando del Consorzio Energia Toscana. Estracom, la società di telecomunicazione di Estra, ha completato ad Arezzo il cablaggio delle zone industriali di Pratacci, Via Calamandrei e San Zeno, la fibra ottica portata in quasi 1900 unità immobiliari. Sono 8,5 i chilometri di rete posati in tre anni da Centri Areti Gas, la società di distribuzione di Estra, che nel Comune Fiorentino di Scandicci sta completando la metanizzazione delle zone periferiche.